Milly Carlucci ha fatto un colpo grosso per Ballando con le stelle, con uno stravolgimento per il prossimo anno e un super VIP La conduttrice di Ballando con le stelle vive una stagione molto densa, non solo sta lavorando al cast per il suo programma che inizierà con la nuova stagione TV, con nomi di tutto rispetto e grandi novità, ma ci sono interessanti risvolti anche nella sua vita privata Quest'anno ha deciso di volare alto e quindi ha scelto molto bene le sue carte Dopo tutto la concorrenza TV è serrata e quindi anche un dettaglio può fare la differenza Proprio ora, quando manca praticamente poco all'inizio di Ballando, partirà il 28 agosto, Milly Carlucci si è lasciata scappare un piccolo indizio Il colpo grosso di Milly Carlucci per Ballando con le stelle.Ballando con le stelle ha già, al momento, molti nomi famosi, Nina Zilli, Sonia Bruganelli, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Alan Fridman e Federica Nargi quelli certi Dovrebbero anche esserci Bianca Guacero, Cugini di Campania, Luca Barbareschi e l'attore di Terra Mara, Furcan Palali Ma non sarebbe tutto qui ed è per questo che si parla di colpaccio Secondo quanto ha annunciato quindi un nome molto famoso potrebbe prendere parte al programma a partire da settembre Si tratta di un famoso calciatore, ex partecipante della Juventus Un colpo grosso stando ai ben informati e in generale un cast veramente a 5 stelle Si tratterebbe dell'ex bomber Alessandro Matri che potrebbe arrivare nel programma dopo una lunga corte da parte della redazione La sua ex compagna, Lanargi, e già nel cast 15 sarebbe anche un binomio interessante La volontà sarebbe di riproporre l'idea dello scorso anno con Ventura e Terzi che ha spopolato, anche se in quel caso erano una coppia, da non dimenticare la proposta di matrimonio finale Milly Carlucci ha lanciato una provocazione ai fan due nomi che non vi dico detto, rimandando quindi ad altri ingressi oltre quelli annunciati Non solo però perché per la donna questo momento è magico in quanto potrebbe presto diventare nonna Dopo il matrimonio della figlia, Angelica Donati, secondo il gossip potrebbe esserci presto un bebè in famiglia Questo porterebbe la conduttrice a vivere un ruolo diverso nella sua vita Il ruolo di nonna è molto impegnativo ma la Carlucci sarà ben lieta di farlo Angelica ha sposato a giugno lo storico compagno, Fabio Borghese È stata diva e donna a lanciare lo scoop con tanto di foto in cui la figlia di Milly si tocca il pancino